signori benvenuti quello che stiamo per vedere è una guida sul positioning durante i teamfights non durante l'aliening phase, non durante i trade solo durante i teamfights e solo per ad carry si vedranno vari punti tra l'altro che andranno a toccare tutte le classi del gioco non soltanto gli ad carry ma è incentrata sulla posizione e il punto di vista del adc allora partiamo prima dalla cosa più importante dei teamfights di ad carry il vostro obiettivo ogni classe in questo gioco ha un obiettivo il tank deve tankare l'assassin deve uccidere un obiettivo qual è l'obiettivo degli adc? l'obiettivo degli adc è fare danno continuo a nessun target preciso e rimanere in vita cosa vuol dire questo? danno continuo vuol dire che voi non dovete semplicemente scaricare una volta la vostra la vostra combo e avete fatto il vostro non siete un mage, non siete un assassin non siete un mage che tirano il loro skill hanno fatto tutto il loro combo hanno fatto un bordo di danni si sono no, fate una cosa del genere con Ashe non funziona perché? perché i adc sono danno sostenuto danno nel tempo quindi dovete continuare a fare danno non è un singolo colpo sono più colpi nessun target preciso questo cosa vuol dire? che voi non avete un target durante il teamfight preciso da dover uccidere non è che pensate ok, c'è la jinx avversaria che sta carriando devo ucciderla no, non siete un assassin non avete un target preciso non avete qualcuno a cui puntare come vedremo dopo il vostro target cambierà a seconda del momento del teamfight voi non è il vostro proprio ruolo nel teamfight fare questa cosa se la andrete a fare morirete perché non funziona così rimanere in vita perché rimanere in vita? perché i adc carry proprio per quello che abbiamo spiegato nel primo punto sono dei campioni da danno sostenuto questo vuol dire che sono utili per gli obiettivi sono utili per pushare e di conseguenza post fight dovrete sempre cercare di prendere una torre un drago un baron o qualcosa comunque quindi prendere degli obiettivi e i adc carry sono molto utili a prendere obiettivi senza contare che invece dal lato singolare dell'adc carry se morite rimanete indietro a livello di gold non potete farmare delle cose e robe del genere ed adc carry ora come ora rimanere indietro vuol dire scavarsi la tomba fine partiamo dalla prima cosa che sono le aree di influenza cosa sono le aree di influenza? non andrò troppo nel dettaglio perché ho un video che lo spiega e mode per favore linkato in chat se possibile il video così lo recuperate quando volete ragazzi l'area di influenza è letteralmente un'area attorno ad un campione dove quel campione ha influenza sugli altri campioni che siano alleati o avversari quindi ad esempio l'area dello shield di Lux l'area della E di Lux l'area della Q di Lux queste sono le aree di influenza di un campione l'area di influenza di un campione potete benissimo comprendere che varia ad esempio se Lux ha la bolla in cooldown l'area di influenza dovuta alla sua bolla scompare perché non può tirarla se è in ricarica detta questa cosa sulle aree di influenza quando voi giocate un team fight da di carry dovete tenere conto delle aree di influenza di tutti e cinque gli avversari perché il terzo punto che abbiamo detto prima è sopravvivere e per sopravvivere dovete quindi valutare queste cose durante questa spiegazione prenderemo per scontato diciamo il fatto che voi siate Ash nel team blu e il team blu sia il team alleato mentre invece il team rosso è il team degli avversari partiamo dal primo dalla prima tipologia di campione ovvero gli assassin ovviamente ogni campione di ogni categoria ha un'area di influenza diversa che dipende dal suo kit però nonostante questo si possono individuare diciamo generalmente delle cose che fanno parte di un kit di un campione di una categoria che lo rendono di quella categoria un assassin ad esempio ha come particolarità quella dei danni e la mobility se no non sarebbe un assassin quando voi vi posizionate durante il vostro team fight dovete tenere conto delle skill di danno dell'assassin avversario in questo caso per Kha'Zix ad esempio sono la Q e il suo autoattacco mentre invece la sua skill la sua unica anzi le sue due skill di mobility sono la E cioè il salto e la R che gli permette di diventare invisibile questo cosa vuol dire? vuol dire ragazzi che se voi dovete decidervi dove muovervi in questo team fight dovete tenere conto che se arrivate più o meno in quest'area di Kha'Zix lui comincia a spararvi delle Q e a farvi danno se arrivate nel range di autoattacco di Kha'Zix lui inizia ad attaccarvi e vi farà danno se entrate nel range del salto di Kha'Zix che vedete che è molto più ampio lui vi salterà addosso per poi entrare dentro all'area del danno e vi farà danno se entrate nel range dove Kha'Zix diventando invisibile riesce a raggiungervi che è più o meno lo stesso del salto più o meno con la movement speed e tutto lui diventa invisibile vi raggiunge e vi fa danno questo è il concetto di area di influenza ovviamente ripeto ogni assassin ha il suo tipo di movimento il suo tipo di danni e i suoi tipi di cooldown quello che dovete valutare è appunto questo come fa danno l'assassino avversario se c'è? come si muove l'assassino avversario se c'è? uno Zed ad esempio utilizzerà le ombre per muoversi quindi questo cosa vuol dire che dovrete tenere conto dell'area fate finta che Kha'Zix sia uno Zed dell'area di influenza di Zed con la sua ombra più l'area della sua ulti quindi contate che se questa qui rosa è l'area di movimento della sua ombra e questa gialla invece è l'area della sua ulti dovete contare che Zed ha un'area di influenza pari alla sua ombra di movimento più la sua ulti quindi una roba tipo così e con questo passiamo ad un'altra categoria passiamo invece ai bruiser in questo caso abbiamo preso Jarvan dei bruiser cosa sono le robe più importanti che ci danno fastidio i danni sicuro però non è un qualcosa di importantissimo come gli assassin questo vuol dire che se il vostro team vi aiuta con un bruiser tendete a non essere one shotati in alcuni casi quello che ci dà più fastidio è la mobility di un bruiser e i cc quindi in questo caso sempre prendendo Jarvan noi dobbiamo tenere conto della E di Jarvan che è la sua skill di mobility no? ricordate la sua combo EQ combinata anche alla sua R che anche questa è una spell di mobility la R di Jarvan il cataclisma gli permette di muoversi ulteriormente e quindi aggiunge dell'ulteriore range a questo campione capite che dovete cercare di gestire la mobility di Jarvan in base a queste cose per i cc invece è la stessa cosa dei danni ma più ragionata nel senso che il danno è uno svantaggio diretto nel momento in cui vi fanno danno perdete HP e quindi rischiate di morire nel momento in cui vi tirano un cc invece non subite danni o almeno molti dei cc sono accompagnati da dei danni ma non così cospicui spesso il problema più grosso di un cc riguarda di solito il fatto che vi blocca totalmente quindi questo cosa vuol dire che quando dovete tenere conto di un bruiser dovete tenere conto di quanto si muove e del suo cc quindi quando pensate a un campione come Jarvan dovete cercare di sapere che all'interno di questa sua area Jarvan fa la sua combo quindi vuol dire che se voi entrate in quest'area quando lui ha la EQ pronta lui può semplicemente farvi la combo e che non capparvi bloccarvi lì e dopo farvi danno o farvi ingaggiare dal suo team insomma queste cose mentre invece se contate la sua area di influenza con la ulti e tutto sapete che se entrate in quest'area Jarvan può fare EQ per raggiungervi e la ulti dopo per farvi danno e ingaggiarvi e tutto tenendo conto di queste due cose riuscirete di conseguenza a muovervi durante il team fight evitando di essere stunnati e di conseguenza evitando tantissimi danni passiamo quindi alla categoria dopo che sono i tank in questo caso prendiamo Alistar per i tank la maggior parte dei problemi non derivano dai mobility o dalle spell di mobility o dai danni nonostante comunque Alistar abbia delle spell di mobility ma derivano dai cc spesso i tank infatti hanno almeno un cc per riuscire a tenere a bada i campioni che gli fanno danno questo cosa vuol dire? vuol dire che dovete tenere conto dell'area di influenza del loro cc e evitare assolutamente di prendere quel cc in faccia ad esempio l'area del cc di Alistar dipende molto dalle spell che ha fuori cooldown un Alistar senza la sua v ad esempio ha un'area di influenza molto piccola e di conseguenza potete cercare di muovervi dove volete finché voi siete a questa oltre questo cerchio rosa da Alistar lui non può letteralmente fare nulla con voi sempre contando questa cosa qui passiamo invece ai mage dei mage quello che dobbiamo tenere conto sono i danni range e i cc quindi vuol dire che tutta l'area di influenza di Lux in quell'area se ci entriamo rischiamo di prendere danno da Lux e dobbiamo anche stare attenti poi ai cc perché a differenza dei tank i mage tendono ad avere dei cc ranged quindi questo vuol dire che l'area di influenza è molto più ampia e spesso spesso vi richiederà il fatto di rimanere più lontani dal fight o addirittura non attaccare gli avversari questo punto lo vedremo dopo ultimi ma non ultimi gli ad carry di cosa dobbiamo contare del cosa dobbiamo contare dell'ad carry avversario principalmente degli ad carry la cosa più importante sono i danni i danni degli ad carry in generale sono dovuti ai loro autoattacchi ma gli autoattacchi come ben sapete non hanno una ricarica e soprattutto non hanno un costo in mana quindi questo vuol dire che nel momento in cui entrate dentro l'area di influenza degli ad carry che tendenzialmente è permanente rischiate di prendere danno ora che abbiamo concluso diciamo questa parte delle aree di influenza ve le appiccico tutte insieme tendete provate a pensare ok a mettere tutte insieme questi concetti che vi ho detto voi quando entrate in un teamfight dovrete contare la combo di alistar la combo di jarvan con la sua ulti il salto di kazix i danni di jinx e infine i danni di lux adesso so che non si capisce praticamente un cazzo con quello che vi ho fatto ma non dovete guardare il totale quello che dovete guardare è semplicemente il vostro campione poi basta sapere che dove siete non arriva nessuno ad esempio volete giocare questo fight guardate come sono le aree di influenza cercate di muovervi verso di qui in modo che jarvan deve muoversi verso di voi e passare tutto il vostro team per venire da voi e in questo modo se jarvan viene dash è da solo perché è l'unico che può andare in quel punto perché kazix è dall'altra parte del fight capite perfetto ragazzi prima di iniziare la prossima parte il prossimo step della guida sono libero a domande hai detto che non dobbiamo scegliere un bersaglio ma nel caso di kaiser danno burst single target non cambia niente non avete comunque un bersaglio anche con jean non avete comunque un bersaglio con nessuna di carry avete un bersaglio specifico è vero che ultimamente negli ultimi anni il ruolo della di carry è cambiato molto e si sono aggiunte cose molto differenti si sono aggiunti dei campioni che tendono a dare anche molto più utility come jean e playstyle che tendono a dare molto più utility playstyle che tendono a dare molto più danno burst ma il concetto generale non conta avete delle possibilità in più di fare danno burst ma questo non vuol dire che è il vostro obiettivo in fight per esempio si kaiser può tirare la sua combi su un target e fare un bordello di danni assolutamente ma ha dei problemi rispetto agli assassin ha meno danni perché ha meno danni rispetto a un assassin sul single target tende ad avere in un modo o nell'altro meno mobility perché si va in di ulti ma dopo o utilizza l'hai per scappare e comunque una volta utilizzata quella ciccia e non ti muovi più di tanto oppure lo prendi in culo e soprattutto fate perdere al vostro team la sua fonte di danno continuo dovresti sempre poi considerare i flash il che è fastidioso perché zona ancora di più assolutamente non ve l'ho detto in effetti è mio errore scusami ferraro i flash fanno parte del kit dei avversari quindi dovete anche contare ha il flash up sì allora la sua area di influenza aumenta ulteriormente la range del flash non ha il flash up bene allora la sua area di influenza non è influenzata dal flash come gestisci l'area di influenza del ghost più flash di darius per esempio e comunque quei cerchietti diventano più grossi con il flash sì come gestisci una cosa come quella di darius ad esempio l'area del flash abbiamo già detto invece il flash è un qualcosa di strano perché è in mobility continua influenza in modo differente la vostra la vostra area di influenza perché perché non vi permette letteralmente di fare da punto a a punto b in istantanamente o in qualche secondo dipende se usate un flash o una spell di movimento come il salto di kazix per esempio ma vi permette di fare da punto a a punto b in modo continuo e con una moving speed da aumentata rispetto al vostro solito questo cosa vi permette di fare permette di aumentare un'area di influenza che chiameremo ipotetica in questo caso che ha un impatto nel momento in cui non si può rispondere cosa vuol dire se questo darius ad esempio utilizza il ghost potrà arrivare molto velocemente intorno a questo raggio mettiamo in questo ok quindi sapete che siete all'interno di questo raggio lui probabilmente vi raggiunge molto facilmente ma c'è un problema se una persona è in questo punto e davanti a sé ha tipo ha lux c'è lux ad esempio pronta a bloccare darius nel momento in cui fa letteralmente due passi la sua area di influenza non è non è veramente fino a questo punto capite cioè non è riuscito veramente ad influenzare qualcuno al limite della sua area è una specie di area di influenza ipotetica un problema ipotetico aumenta la vostra area di influenza ma non in un modo materiale e diretto come scatti flash spell range e da robe del genere passiamo quindi al secondo al secondo punto ovvero come muoversi prima e durante i team fight una prima regola che possiamo infilare nel nostro nella nostra nel nostro decision making durante e prima di team fight è non iniziare i fight non siamo noi quelli che ingaggiano non è la di carry che stando in front line arriva ingaggia un avversario lo prende fuori posizione e robe del genere fa partire il fight no ci sono degli ad carry che fanno partire dei fight ma non è con un contatto diretto con l'avversario ma grazie a spell ha il turbo lungo raggio esempio jinx con lo zap jin con la v jin con la ulti sono spell con un raggio così lungo che vi permettono di colpire gli avversari nel momento in cui loro invece non hanno modo di rispondere perché siete a 4 chilometri e mezzo di distanza e che quindi non vi mettono in pericolo se voi invece prendete ed ad carry letteralmente fate questo cioè c'è il vostro team qui piazzandovi così davanti per tentare di salvaguardi e poi farlo acchiappare dai vostri alleati quello che succede in un caso simile ad esempio jarvan vi ingaggia lux vi tira una spell kazix salta e vi one shot jinx entra in range e vi attacca e vi esplodono e non ci guadagnate niente seconda cosa non stare in front line è praticamente collegato ma questo è durante proprio il team fight chi è più avanti è la front line in questo caso asce la front line perché non si fa per lo stesso motivo che vi ho appena spiegato se prima il problema è voi iniziate il fight e direttamente vi cagano addosso il concetto della front line si sviluppa durante tutto il team fight però segue le stesse meccaniche ovvero siete voi davanti allora siete voi che beccate gli schiaffi passiamo invece a un concetto un po' più importante che è come scegliere il target quando voi dovete scegliere il vostro target da ad carry dovete contare su due regole che sono una conseguenza dell'altra voi dovete scegliere il target più vicino nel vostro range e tendenzialmente anche il più vicino di tutti mettiamo caso che noi siamo Ash e abbiamo dentro il nostro range di autoattacco sia Jarvan che Alistar noi non cercheremo in questo team fight di andare a colpire Kha'Zix perché fa più danno di andare a colpire Lux perché fa più danno di andare a colpire Jinx perché fa più danno non sono un nostro interesse camminare in avanti per cercare di colpire questi tre target è errato ci espone ad inutili problemi perché lo abbiamo visto prima entriamo in molte più aree di influenza e quindi rischiamo la vita quello che invece ci interessa particolarmente è colpire quelli che sono già nel nostro raggio d'azione e tentare di tenerci il più lontano possibile da danni e pericoli adesso ora che siamo sicuri di dover colpire Ciccio 1 e Ciccio 2 chi dei due dobbiamo scegliere? dobbiamo scegliere quello più pericoloso se noi andiamo a focussare Alistar cosa andiamo a togliere nel team fight? andiamo a togliere un'area di influenza molto molto gestibile visto che è dovuta soltanto alla sua V tanti CC e semplicemente un tank ma nient'altro se invece andiamo a uccidere Jarvan cosa togliamo? un'area di influenza lunga tanti danni possibilità di CC possibilità di one shotarci quindi in questo caso il nostro target è assolutamente Jarvan mettiamo il caso dinamico in cui Kha'Zix entra nel nostro range nel momento in cui Kha'Zix utilizza la sua mobility ed entra nel nostro range noi semplicemente a livello dinamico di gameplay rifacciamo lo stesso ragionamento di prima fuori dal nostro range fuori dal nostro range non priorità questa era la nostra priorità però aspetta oh questo qui fa tipo 7000 danni in più è pericolosissimo via questo qui non ci serve non ci serve più non ce ne frega più un cazzo sarà questa la nostra priorità a livello dinamico andiamo a scambiare il target questo è il punto che andavamo a dire prima ovvero daddy carry voi non avete un target preciso avete un target dinamico passiamo alla cosa dopo che è adattarsi in base alle proprie skill e a quelli avversari questo si ricollega alla fase di aree di influenza abbiamo detto prima che l'area di influenza di un avversario è influenzata di nuovo dalle sue dalle sue abilità ma questo vale anche per voi Ash con il suo volley ha un'area di influenza molto alta perché può tirare una V che slow agli avversari e tutto quella sua ulti ha un'area di influenza ancora più alta anche se la ulti è globale l'area di influenza non è globale perché ovviamente dopo hanno la possibilità di schivarle tutto però capite che se ha la ulti up tutti quelli che sono dentro questo cerchio è facile che li prendiate se non fate schifo a tirare i skill shot come me mentre invece se non avete il volley non avete la ulti e roba del genere la vostra ad influenza saranno gli autoattacchi quindi quello che dovete fare oltre a tenere conto di quali avversari ci sono nel mio range qual è la priorità quali sono le aree di influenza e tutto sono io con i danni che ho con le skill che ho cosa posso fare prendiamo sempre il caso che avete detto prima di Darius Darius che tira il ghost e cammina verso una Ash lui ha pochi HP io ho tutto up non me ne frega un cazzo che mi stia camminando addosso fai due passi verso di me ti tira una ulti nei denti ti stunno ti smitraio e muori e questo è il concetto di adattarsi in base alle proprie skill e quelle avversarie e in base a questo potete anche decidere un target nel senso se voi andate a riprendere di nuovo la situazione di Jarvan e Alistar dentro la vostra area di influenza ma Jarvan ha tutti gli HP e invece c'è Alistar che ha 200 HP dovete assolutamente focussare Alistar questo qui che è full HP è vero che normalmente sarebbe il nostro target ma se con due attacchi possiamo uccidere un avversario e togliere completamente una parte di CC e una parte di tankiness dal fight allora lo andiamo ad uccidere come ultima cosa che vediamo è il meglio quittare che schiattare che è l'ultimo concetto principale del vostro positioning in fight voi siete qui isolati con Ash e contro avete Kha'Zix che si è accorto subito di voi e sta venendo verso di voi con Alistar e se voi vi muovete verso di qui non potete colpire nessuno ma se vi muovete verso di qui venite intercettati da Alistar e Jarvan e tutti e quindi morite se no non fate danno la vostra scelta è non fare danno perché se voi kaitate all'indietro ok e gli avversari per raggiungere voi devono letteralmente quittare il teamfight e non fare più niente il vostro l'avete fatto è vero che voi non avete tirato neanche un singolo autoattacco in teamfight ma avete tolto due target se Alistar e Kha'Zix rigioinano il teamfight voi dovete essere pronti di nuovo a rejoinarlo a vostra volta questo è il concetto di meglio quittare che schiattare quindi facciamo un altro 5 minuti di domande se avete domande su queste parti io ho domanda ma se faccio questo avanti e indietro con Alistar e Kha'Zix semplicemente non lascio fare il teamfight ai miei compagni esatto se io sono quello più avanti del team rischio di non impattare il teamfight e perderlo essendo che non faccio niente e non è detto che 4v3 vincano quindi rimango se quindi rimango se io ho il vantaggio in quel modo non impatto il game ed è come lanciare una moneta sui miei alleati allora sì questo sì assolutamente nel senso che prendete il caso in cui tutto il vostro team è in svantaggio o messo normale tipo e voi avete come particolarità del vostro team c'è Ash del team blue che è fiddata mentre invece del team rosso di fiddati ci sono sia sia Lux che Jinx capite che se lo se questi due vi zonano e Jinx e Lux sono liberi di far danno quando invece l'unico damage dealer del vostro team siete voi avete dei problemi assolutamente sì ma questo non lo risolvete stando in fight essere avanti da adcary non vuol dire essere più resistenti vuol dire fare più danni e solo alcuni adcary hanno un lifesteal così d'impatto per riuscire a resistere ai danni di un assassin e nessuno ripeto nessun adcary ha le resistenze per resistere a dei cc se siete stunnati non potete autoattaccare se non potete autoattaccare non potete utilizzare il lifesteal e vi one shottano perché non avete le resistenze quindi questo cosa vuol dire che voi potete essere mille zero ma se Alistar e Kha'Zix vi stanno zonando completamente cercare semplicemente di ignorarli e andare in team fight non si risolve in nessun modo morite e il vostro impatto in team fight è minore rispetto a quello di kaitarli all'indietro come risolvete questa cosa nel team fight dovete cercare di avere prima un positioning migliore di avere prima un movimento dove gli avversari non hanno questa possibilità di beccarvi fuori posizione per esempio invece che essere in questo punto con Ash dovreste essere qui nel momento in cui il vostro positioning già è fackpato perché non potete fare altro basta dovete tornare indietro cercare di semplicemente tirare dritto ignorando come a mettersi le dita nelle orecchie chiudere gli occhi e cominciare a gridare sperando che Kha'Zix e Alistar diventino letteralmente due scarafaggi no uno è già uno scarafaggio tecnicamente e non vi attacchino non funzionerà mai e soprattutto è colpa vostra se si perde il fight lì veramente perché se voi siete 10-0 fate questa stronzata morite il team fight si perde perché siete istantaneamente morti e non avete avuto nessun impatto lì la stronzata l'avete fatta voi e probabilmente ci perdete pure il game nel caso specifico di ADC con mobility Vayne e Kha'Zix meglio riposizionarsi dietro Darius e Xerath o appunto andare sotto torre eccetera eccetera allora la mobility non vi permette di schivare gli engage nel senso lo scatto di Lucian ad esempio sempre visibili siete cioè se tu con lo scatto di Lucian fai da una parte all'altra ma entri dentro il range di Alistar Alistar la testata è la tiara lo stesso non gli cambia un cazzo se invece parliamo di Vayne e Kha'Zix ad esempio che diventano invisibili voi capite benissimo che mettete il caso in cui con Vayne e Kha'Zix siete qui e questi due sono ancora in questa posizione qua capite che se voi camminate verso di qui e c'è Jarvan e se voi avete Kha'Zix e Vayne e diventate invisibili potete benissimo fare da questo punto fino a questo punto da invisibili e praticamente vi siete riposizionati senza nessun problema perché se Jarvan vi ingaggia non 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 c'è nessun problema perché deve letteralmente fare da qui a qui ed è da solo perché vi ricordo che questi due stronzi sono ancora dietro questa linea e quindi è letteralmente nella vostra backline a beccare schiaffi quindi sì assolutamente partiamo con l'ultima parte e dopo finiamo con le domande che stiamo stiamo andando veramente per le lunghe passiamo quindi all'ultima parte di questa guida che è le variabili del teamfight come potete capire io non posso rappresentarvi letteralmente qui in mappa tutti i possibili teamfight con tutti i possibili campioni con tutte le possibili variabili ma ci sono delle variabili più importanti o che almeno ho individuato di cui dovreste tenere conto la prima e secondo me la più importante anche di cui tenere conto è la visione perché nel momento in cui un fight inizia in un punto della mappa dove ci sono i bush ok i cespugli e voi non vedete l'intero team avversario si crea un problema grosso che riguarda il fatto che non sapete le aree di influenza mettete caso che il vostro team si sta riunendo tipo no sapete ad esempio grazie a una ward in questo punto qui sotto il sub goal che qui c'è jinx perché la vedete sapete che ci sono questi perché li vedete che ci sono tipo i minion qua che si stanno si stanno combattendo quindi avete visione di tutti questi membri del loro team ma non di kazix adesso il vostro team bello beato prende e è già passato da questo da questo punto della mappa tipo ormai da qualche secondo voi cosa fate prendete e passate da questo punto qui dove siete che non sapete chi c'è qua rischiate perché mettete che passate di qui e kazix decide di saltarvi addosso vi prende fuori posizione e morite finché gli avversari sono all'interno di un cespuglio e voi non siete certi della loro presenza lì allora sono delle minacce ignote quindi vuol dire che parte un teamfight vicino a un cespuglio e non sapete chi c'è dentro il cespuglio state lontani dal cespuglio fate finta che il teamfight si crea intorno a questo cespuglio e voi siete all'esterno date per scontato che in questo cespuglio non wardato ci sia la persona tra quelle non visibili ovviamente con l'area di influenza più alta di tutte e tenetevi fuori da quell'area di influenza la cosa dopo è fightare nei posti stretti perché fightare nei posti stretti è pericoloso perché nel momento in cui il vostro team passa ad esempio in questo punto e dall'altra parte c'è Lux passare in questi punti stretti contro dei team che hanno spell aoe engage aoe o roba del genere cioè ad area è un suicidio voi contate che se Alistar arriva fa la combo su Leone e Darius non gliene frega un cazzo di niente si beccano 200 danni 300 danni magari qualcosina in più da Lux ma rimangono lì se lo beccate voi morite per 7 volte di fila quindi contate sempre sto passando per un posto stretto sta per partire un fight in un posto stretto posso stare in questo posto è wardata questa parte so che non ci sono avversari che nessuno può sfruttare questa vicinanza col posto stretto per killarmi ho una via di fuga posso scappare dal fiume posso scappare tornando verso la base adesso voi questa parte qua purtroppo non la vedete posso tornare verso la giungla posso scappare da davanti nel caso ho delle vie di fuga sì allora mi tengo quelle vie di fuga contate sempre questo state feitando in un punto stretto dovete sempre avere una via di fuga e dovete sempre essere certi di non essere sorpresi all'interno del punto stretto da un punto non wardato o da una spell aoe che colpisce tutti quelli all'interno passiamo al penultimo punto che è vantaggio e svantaggio numerico in base al vantaggio e svantaggio numerico durante un teamfight cambia totalmente il vostro approccio cosa succede se io invece che mettervi questa situazione vi dico leona non c'è il vostro teamfight cambia completamente perdete totalmente la possibilità di essere di essere pilati da leona cioè di essere aiutati a acaitare kazix o qualunque altro engage degli avversari perdete parte del vostro engage perdete parte dei vostri tank ma la stessa cosa vale anche a livello speculare se io vi dico dall'altra parte non c'è kazix allora sapete che i damage dealer sono solo due che è un problema jarvan sì ma non tanto quanto casi che dovrete gestire la loro front sì ma non avrete uno che letteralmente appena vi tocca con una skill vi scoppia che dovrete stare attenti principalmente a lux e jinx a livello di danni quindi questa è una cosa molto importante sia che manchi uno del vostro team o del team avversario dovete letteralmente abituare la vostra testa a quella situazione io vi ho detto all'inizio del game dovete capire cosa fa ogni champion e di conseguenza capirlo nel team fight sì una cosa ancora più importante che dovete capire è non tutti i team fight sono 5 contro 5 se un avversario non c'è perché è morto perché è dall'altra parte della mappa non se non è visibile se non è visibile dovete contarlo come se fosse in team fight l'abbiamo detto prima se un avversario è morto e dall'altra parte della mappa o stessa cosa per un vostro alleato dovete esattamente contarlo come non esistente e di conseguenza la sua area di influenza positiva o negativa che sia non c'è in team fight ultima cosa essere fidati o meno essere fidati vuol dire vi permette magari di fare più danno quindi sapete che anche se entrate nell'area di influenza di un campione sapete di ucciderlo prima che lui possa uccidere voi o letteralmente rispondere a voi sapete invece che siete indietro un campione che normalmente potreste kaitare perché anche all'interno della sua area di influenza non è pericoloso magari invece diventa pericoloso o il contrario un kazix particolarmente fidato non si fa problemi a saltare in mezzo a 4 alleati tirarvi uno schiaffo uccidervi e andarsene un kazix 0-10 c'ha qualche problemino in più a farlo e quindi finché siete insieme al vostro team non vi può fare niente questo perché è importante perché le aree di influenza non sono semplicemente ci entri dentro sei morto per i adcari spesso è così ma certe volte non è così perché magari hanno semplicemente parte del loro kit magari avete contato male le aree di influenza magari siete particolarmente avanti e loro particolarmente indietro quindi non fanno molti danni e voi avete tipo dell'histeel e quindi di conseguenza andate a fare la cosa più complicata del giocare adcari in realtà in questo gioco proprio ovvero valutare se allo scontro tet a tet vincete voi o loro se io entro nel range di lux e lux ha soltanto una skill attiva mentre invece io con ascello tutte mi faccia dei problemi ha la bolla disponibile ma solo quella tutto il resto è in cooldown invece io sono asce full hp full mana con tutte le cose e anche fiddato me ne sbatto il cazzo di entrare nella sua area di influenza mi tira una bolla se mi tira una bolla io gli tiro una freccia nel buco del culo e la faccio schiantare questo vale per ogni campione nel gioco ogni campione vostro e ogni campione loro quindi abbiamo finito con questo ragazzi abbiamo finito la guida al team fight vi ho detto ogni ogni cosa sul team fight se avete delle domande ditemene il concetto di backline e diving a backline diving il concetto di backline diving è si entrate dentro i vi sembra di entrare dentro le aree di influenza di avversari ma in realtà non lo fate perché voi avete un campione che può letteralmente muoversi da una parte all'altra del team fight senza problemi perché ha uno scatto come Tristana o Kaisa e quindi non vi da tanti problemi muovervi arrivare sulla backline e la backline non è che è semplicemente lì pronta a spararvi in faccia ma è stunnata dalla ulti di leona o qualunque altra cosa che ha il vostro team e di conseguenza nel momento in cui voi arrivate lì siete davanti a due pupazzi stunnati che uccidete e poi andate sulla la front line degli avversari quindi in realtà il concetto non cambia è semplicemente una situazione specifica dove voi avete un campione che ha la mobility che vi permette di andare fino alla backline una front line che è capace di stunnare e bloccare quindi completamente il potenziale della backline e in totale sommando i vostri e i danni del vostro team danni abbastanza alti da distruggere la backline prima che possa in qualunque modo rispondere se voi prendete con Tristana e saltate addosso a Lux che è lì libera senza stun o roba del genere vi tira una manata alla tastiera fa parte ogni cosa su di voi vi tira un laser in faccia e vi fa la bronzatura perenne ha più senso da DC cercare di joinare più fight possibili per dare un impatto o eventualmente si ritiene che il fight sia perso chi va appare anche da soli un obiettivo per accumulare gold più ex magari safe dall'altra parte della mappa allora questo è un concetto molto più complicato che non è relativo al positioning ma lo trattiamo comunque questo caso è molto complicato nel senso che cercare di joinare più fight possibili è molto importante perché è il vostro impatto al gameplay è il vostro modo per guadagnare vantaggio è il vostro modo di procedere durante la partita quello che però è differente è cioè quello che è importante è fare una differenza tra entrare in un fight e suicidarsi in un fight se il team fa un team fight del cazzo e vi buttate insieme a loro e rischiate insieme a loro morendo avete fatto una stronzata se il team fa un team fight del cazzo ma vi avvicinate senza mai esporvi troppo facendo quel che potete senza rischiare di morirci allora voi avete joinato il fight ci avete provato e non siete morti avete fatto una buona cosa è meglio invece prendere una wave e perché è sicura è meglio solo nel caso in cui il fight è sicuramente al 700% perso quando si usano come ad carry i campioni che non sono propri del ruolo esempio talia pantheon ad carry talia sì ad carry pantheon non mi sembra ne avevano mai visto però va bene però prendiamo caso invece di swain ziggs ok come ci si dovrebbe rapportare lì non siete ad carry giocate al posto di un adc ma non siete adc uno swain che viene giocato bot lane che poi il concetto è giocarlo bot lane non ad carry cioè giocarlo bot appunto non siete degli ad carry cioè non è che il campione non è che se io gioco hash top diventa un tank se voi mettete swain in bot non diventa un ad carry se voi mettete ziggs in bot non diventa un ad carry cambiano certe priorità a livello globale della partita ma nel team fight il modo di giocarsela è lo stesso ziggs gioca da mage il concetto di position in costa mien come cambia come con kaiser tristana esattamente kaiser allora intanto anche kaiser tristana seguono tutto quello che abbiamo detto il fatto che abbiano la possibilità di fare quel backline diving che abbiamo detto non vuol dire che dovete giocare per forza in quel modo uno due samira segue anche lei tutte queste concezioni l'unica cosa che ha samira in più è che nel suo playstyle ha il dover gioinare il fight ma in realtà non è che andate a spararvi nei piedi ve l'ho già spiegato una volta questa cosa su samira ovvero che samira non è che semplicemente oh la s boh salta dentro e ti sparo tutti no lo fate morite carichi la ulti hai la ulti pronta bene negli avversari c'è qualcuno che ti può stunnare one shotare nel momento in cui entri e tiri la ulti si allora niente stai lì tranquillo la tua ulti non la tiri continui a fare le cose aspetti prima o poi partiranno l'euro skip del cazzo poi nel momento in cui c'hai i cc no c'hai i danni no boh voli dentro comincia a sparare e via e distruggi tutto ma quello è un concetto del positioning di samira che è specifico esattamente per tutti gli altri campioni non è che va contro alcune di queste cose voi continuate a rispettare le zone di influenza e tutto semplicemente vi muovete più vicino quindi signori se non avete altre domande io direi che chiudiamo qui ciao 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 ciao